I casi covid nel Vallo di Diano stanno salendo. Fortunatamente in linea con il trend regionale e nazionale sono quasi tutti asintomatici. 5 i nuovi positivi a Monte San Giacomo risultati dal tracciamento nella rete dei contatti del primo caso. Una ragazza del posto contagiata nei giorni scorsi. In totale sono 6 e stanno tutti bene. 12 appolla all'interno di due nuclei familiari diversi e legati ai casi emersi all'ospedale locale nell'ambito delle regolari verifiche volute dal direttore sanitario Luigi Mandia su tutto il personale in servizio nel nosocomio. Nei giorni scorsi si era anche diffusa la notizia di un medico, un anatomopatologo, risultato positivo. Dalla direzione sanitaria di Luigi Curto è arrivata ieri la precisazione che il tampone a cui il sanitario è stato sottoposto ha dato esito negativo. Sempre nell'ambito dello screening di massa era risultato contagiato l'infermiere nonché sindaco di Tegiano Michele di Candia. Ieri la buona notizia è guarito. Per quanto riguarda gli altri comuni, nel Vallo di Diano sono complessivamente 10 positivi ad Atena Lucana dopo che lo scorso fine settimana sono emersi 4 nuovi casi. Due a Sassano, come comunicato ieri dal comune, si tratta di due donne, una 19enne e una trentenne. Questa mattina poi la notizia è di 7 dipendenti e un addetto alle polizie nell'ambito dello screening di massa alla Banca Montepruno. La verifica è stata disposta dallo stesso istituto di credito su oltre 100 persone per tutelare la sicurezza dei propri dipendenti e della clientela. Le filiali sono sanificate e regolarmente aperte al pubblico. Dall'ultimo bollettino diramato ieri sera, dall'unità di crisi della regione Campania risultano complessivamente a livello regionale 1.760 nuovi positivi su 13.878 tamponi effettuati. Di questi 1.661 sono asintomatici e 99 isintomatici.